Ciao a tutti e benvenuti da Tina e Pippo e Viu e oggi ragazzi siamo qui in un video pazzo perché aggiungeremo degli ingredienti agli squishy fluffy slime della D-Ramix sono bellissimi ragazzi allora aggiungeremo degli ingredienti che abbiamo tutti qua però non li sceglieremo noi ma li sceglierà la ruota della fortuna ragazzi questo vuol già che cos'è? o l'uptorio ah quello che vi mettete in bocca allora praticamente abbiamo installato sul telefono un'app che si scrive decide now no quindi decide now praticamente questa ruota della fortuna sceglierà che cosa dovremmo mettere nei nostri slime ragazzi ovviamente sul telefono ovviamente sul telefono di nostra mamma eh già eh cosa ma non ci occupa memoria abbiamo messo abbiamo scritto per ogni spicchio ecco un ingrediente che abbiamo scelto noi in totale sono 12 proprio come sono 12 i fluffy slime quindi per ogni slime aggiungeremo un ingrediente scelto dalla ruota allora ce li abbiamo tutti qua non riuscite forse a vederli tutti aspettate provo più o meno io li tolgo comunque no 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 ne pescheremo dalla scatola una alla burca anche io ce l'hai tolto ok anche voi bravissima abbiamo degli ingredienti un po' pazzerelli ragazzi comunque li scopriremo mano a mano sono mi dispiace anche rovinarli questi slime però cioè volevamo fare questa challenge perché ragazzi sono ah perché tutto sono profumatissimi ma guardate come sono fluffy c'è tanto però stavolta hanno l'agione eh oggi è venuto il primo ok oggi è venuto il primo lo posso dire eh vai arancia arancia si che buono e comunque abbiamo anche cioè come sempre anche il magazine con tantissime cose via perfetto abbiamo messo anche le due tovagliette per non macchiarci tu cosa scegli per primo? arancione arancione e io fucsia no 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 una alla volta adesso questo va di là dai facciamo io allora e tanto lo facciamo tutte e due insieme quindi prima tu e poi io allora togliamolo no vabbè divino ma si appiccica eh all'inizio si ma la mania dancioli eh eh ok mettiamolo qua ah ti vede a prendere la tovaglietta di plastica vabbè ah ok guardate ho già le mani così anche io e non avevo ancora inizio ragazzi ok vipo vai gira tu la ruota no non posso eh no no vabbè dai fai così vai non importa vai fai lo stesso no 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 al centro vai ok vediamo un po' ragazzi devi mettere la sabbia wow pippa invece io aspettate che giro quindi sabbia pippa questa qua scusa mamma ti rovineremo il telefono vabbè quindi sabbia quella lì che bello puliziella da aggiungere se vuoi anzi no aspetta mi va sto aggiunge va bene invece io cos'è palline d'argento ah ok ah guardate ok la sabbia è lì già spostiamo mettiamoli per terra va questi qua sì no anzi qua va ok quindi io palline d'argento ma ragazzi queste di sottare eh no devi mischiarlo eh eh sì se no ce n'è ancora ok palline d'argento mettiamo vabbè fupse con l'argento ci sta bene e la sabbia non ci sta bene oh mamma mia sono pazzi no vabbè si senteva tutta la fazione non andare anche nel mio pippo non andare anche nel mio ok mettiamo le altre ah sì no impievo tutto perfetto boh io impievo tutto e poi e vabbè allora alla fine non voglio sapere come sarà la fine di questo video il tavolo aspettate un attimo beee ma cazzo ne apre la trance di plastica ok ah qui sono proprio piccicosi non me ne aspettavo non voglio dire quella paola perché è una paolaccia scudatema comunque questo è il risultato ma ci sta bene un po' rock questo slime ah rimettiamo le sue balattoli quello di pippo oh 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 occhi di gatto profumo fantastico comunque riprendiamo i balattoli sono un gatto mamma mia oh 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 occhi di gatto ok via via questo ok adesso li mettiamo nei loro contrattori aspetta e ci puliamo le mani abbiamo scelto gli altri due si ragazzi eccoli qua io ho scelto il giallo ragazzi e tu il verde diciamo i gusti menta si sente mamma mia che buona ti fa vedere che c'è l'odore di dei ghiaccioli eh si è la menta si si ok vai gira la ruota pippo tocca lì ok non lo so andiamo un po' no no tanto non li rimettiamo chicchi di caffè wow ma questo hai fatto bene vediamo si questo sono alcuni fatti bene altri un po' più liquidini infatti abbiamo messo anche un po' giriamo vediamo un po' cos'è ma pochissimo chicchi di caffè quindi niente giuriamo oggi chicchi di caffè mi riportano tu puoi già metterli pippo schiuma da barbo pippo dove è il coltello che c'è un po' tipo no 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 abbiamo deciso di utilizzare un coltellino di plastica o un cucchiaio per quelli in più per liquidini per mescolare invece quelli fatti bene che bello questo ok non puoi mettere tutto naturalmente allora questo vediamo un po' se è fatto bene più o meno secondo me si si dai meglio ragazzi prendo un po' il coltellate schiuma da barbo tira mettiti più qua pippo se no non si vede spostalo un po' che bello questo verde per adesso lo migliore è questo verde ok qua così si vede bene ho un po' di coltellate allora vai pippo chicchi vediamo un po' bava aspettate lo voglio un po' allargare così tino ci sta proprio la schiuma da barbo che pussa vabbè non tutti eh quasi tutti ok proviamo così tino guarda magari diventa più fluffy ragazzi tino guarda no vabbè ragazzi ve l'avevo detto eh che in questo video passo no ne messi un po' troppi vabbè inizia a mescolare tino prendi il vasetto dei chicchi oh mamma la schiuma da barbo che pussa sta piano vabbè non vi dico cosa c'è sul pavimento è morbidissimo no vabbè ragazzi wow è morbidissimo bellissimo quindi se volete islami più morbidi aggiungete schiuma da barba no vabbè poi acquista anche un profumo meraviglioso oh che piccoli cazzo che è anche lui mio tina ce li scambiamo no no pippa e tu prendo quello dai lo posso un po' modellare cioè è bellissimo ce li scambiamo un po' vediamo oh questo verde è crunchy eh ragazzi come fare lo dove è crunchy aggiungete che chi ne chiamo vediamo un po' ok adesso scegliamo i gli altri già il numero 3 allora io ho scelto il lilla bellissimo il verde è acqua profumadissimo e lui il verde è acqua e questo è liquido perfetto cioè non liquido mh tina ce lo scambiamo no no vabbè ok fai così vado perfetto lo metti ecco te lo tolgo io va magari ragazzi così no 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 adesso lo devi ritoccare ok te lo verso così perfetto che bello verde acqua già è il suo colore uno dei suoi colori preferiti mio colore ah è il suo colore preferito vedete così prima di aggiungere un po' di schuva da barba a vedere cosa succede eh ragazzi sì nel suo vediamo se diventa vai piano non tanta sì qui basta aspetta vai 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 e ci va un po' di forza Fili boh basta basta ok così proviamo ragazzi se diventa migliore oppure no ma no no mi schiavolo con questo mi schiavolo con questo mi sa che non diventa meglio però almeno ci abbiamo provato ok mi stavi tagliando un dito ok adesso lo mischio con questo vediamo un po' come diventa ragazzi poi naturalmente vi poi aggiungerà il suo ingrediente io la posso aspetta 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 tanto che succede lo devi ritoccare vediamo un po' se diventa forse sta migliorando eh ragazzi non toccarla ancora aspetta che magari le rimetti le mani qui e forse si è migliorato si è passata meglio quindi lo avevo no no rimetti le manine qua adesso fai così vai vero che è migliore perfetto abbiamo trovato aspetta no 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 adesso non ci devi ritoccare allora Pippo vabbè gira la ruota per te perché fai vedere le tue mani di no ok vediamo un po' cosa esce 100 kg di mais non c'è quindi cosa sono usciti all i colors quindi le polveri mentre le polveri colorate mentre a me vediamo un po' 100 kg di margare dica non c'è zucchero ok Pippo scegli il colore allora direi che visto che è azzurra non scegli il blu c'è rosso viola verde o arancione verde e ragazzi che sapete se avete visto il video ve lo lasciamo qui Pippo ha fatto un disastro con questa polvere verde un disastro proprio allora ce la aggiungi tu poca poca probabilmente basta 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 Pippo basta lo slime di Hulk si ok mentre io ecco lo faccio verde mentre io devo aggiungere lo zucchero ah questo viola è bello verde di consistenza non è giusto allora lo zucchero qua piano piano magari con la polvere diventa e già diventa più denso Pippo ma mi schiala con il coltellino vai vai però mi schiala con il coltellino io ci aggiungo lo zucchero grazie direi che è uno slime molto molto dolce diventati nel cattino non mi fa andare a lavare le mani sì ma adesso li vai a lavare aspetta un attimo dobbiamo mischiare prima wow amore ragazzi è una consistenza bellissima ce lo aggiungo ancora un po' Tino eh dimmi mi devo pulire la mano Pippo ha fatto un disastro oh mamma mia sei venuto anche un po' più liquidino scrivete hashtag tinecattino no si è rovinato sì ecco sono felice perché è molto cioè guarda con lo zucchero come è diventato più liquido perfetto adesso io Pippo ci puliamo ok io l'ho scelto Fucsia e tu? giallo giallo per mettere il colore si ripete gusto al banana no era prima banana non so se è anche questo sembra anche un po' di mole il mio non so i fiori ok Pippo vai gira la ruota questi due sono già più liquidini quindi li mischiamo direttamente nel barattolo aspetta io sempre vai gira gira Pippo dai vai olio io preferisco buono buono no sabbia già fatta quindi via dai colpo mi piace ma posso leggere? sì si uh phone balls ebbè sono belle le palline sì di tutti i colori perfetto mentre io vediamo un po' phone balls mira quando non venterle tutte perché è possibile sono tantissime ecco conchiglie belle belle oh peppa ok e sono buone tutte colorate ok prendi queste va Pippo magari che casino ragazzi non abbiamo mai fatto un video così incasinato veramente no ma no così vabbè schettatela te le prendo io magari avvicina lo Pippo no io la prendo con le mani posso anche io eh ma con le mani vabbè prendi o con il coperchio bravo mentre io cos'è conchiglie che sono qua le conchiglie bellissime mi sono finite anche delle palline dentro nel mio vabbè non mi importa conchiglie lo fai più colato ok iniziamo a mischiare da qui che bello il mio diventerà con i crunch non c'è anche il suo bello no per te ragazzi ragazzi basta basta vanno bene così vanno bene così vanno bene così Pippo tu mischi il tuo vai non ce l'ho più come? ecco il coltello piano piano no quanto cioè voi ditemi come fa adesso Pippo a mischiare vabbè fa lui vai che pasticcio ragazzi c'è proprio hashtag Pippo pasticcioni ci sto ci sto aspetta che ti aiuto ecco bravo fai un po' così aspetta 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 che ti aiuto la cuca la cuca no ok il ballo è sempre quello della cuca il tuo è bellissimo adesso mi schiaci che perfetto il mio appunto vedete tutte le conchiglie dentro carino vattene via ok non si vedono moltissimo perché vedete se ne metto ragazzi mi sono tolto mettere le ciabatte le ciabatte vabbè si è tolta completamente ok no dico le ciabatte polvere verdi eh certo perché per te c'è anche la polvere verde vabbè stavo mettendo questo qua perfetto allora quindi mi lo chiudo pure tu tu che bello fallo vedere guarda che bello ragazzi bello ok adesso scegliamo i prossimi slide ragazzi questi sono perfetti ragazzi guardate non appiccicano bellissimo ma ci sono anche le palline sul mio vai schiaccia schiaccia pippo ok eh tina lo leggo io eh no no aspetta no cosa hai fatto comunque era uscito colluttore ragazzi eh quindi aspetta te lo do io dopo poi per me no non prenderlo tu ancora aspetta non aprirlo pippo io sale cioè io zucchero io vedo mio padre come si però aspetta te lo devo mettere nel beccuccio non puoi metterlo grazie grazie quindi pippo colluttore no non è troppo un po' la metto ok vai me lo metto no vai metti lo sono messo sul naso vai adesso mischia pippo mischia mischia il colluttore ecco adesso diventa appiccicosa quello di pippo secondo me mentre me sto scherzando mica diventa appiccicosa mi faccio già appiccicosa io sale speriamo che non faccia la stessa cosa dello zucchero di prima che l'ho fatto diventare tutto liquido veramente mi ha dato fastidio ho messo un po' troppo forse vabbè vediamo un po' no Tino eh è bello ok adesso ti conviene metterlo nella scatola perché sei un po' diventato un po' liquidino guardate come rovinare gli slime però dire attento fino a poi si aggiunge un po' di menta no no basta basta direi che è venuto così vabbè questo qui non viene tanto liquido come l'altro ecco il sale un po' no ah 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 cioè non si vede tanto mi ha bandata qui no basta basta mi prendo ancora più dai basta facciamola prova no ok basta anche una pallina si comunque anche questo qui si è diventato liquido basta 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 prendiamo qui subito boh boh ciò pavagalina ciò pavagalina gli ultimi due ragazzi vai prendili già Pippo quali sono mi riesco a prenderli allora tu blu e io rosa aspettate che mi asciugo le mani ragazzi perché anche io sono un po' appiccicosi e vai pulisci con lo straccio verde naturalmente di prima ecco bravo Pippo mi pulisce bravissimo ok basta 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 non si trova andiamo a fare la doccia per dispetto ok vai vediamo un po' questo com'è se lo possiamo prendere così non si riesce nemmeno ad aprire io non riesco cioè meglio di no perfetto no un po' piccicotette facciamola qua Pippo è meglio meglio qua allora adesso mancano due cose ovvero il glitter e l'olio quindi aspettate aspettate Pippo no dobbiamo rigirarlo perché sono uscite le phone boss rigiriamo rigiriamo aspettate sale niente no non mi toccare la camicia non mi toccare la camicia no la camicia sale ma che l'avessi ho luttore niente cioè è bello che ho detto mi toccare la camicia che è una canottiera tino dai vai oh no no piano piano no quindi io eh sì i glitter no 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 Pippo aspetta si vieni qua no no vieni qua Pippo vieni qua Pippo metto la borbella no 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 vai tu l'olio no vai tanto poco poco però te lo metto io perché sennò fai i pasticci posizione da tennis cosa c'è io ok mette olio di semi mettimi tutto il kilo basta 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 ok adesso gira basta 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 perché abbiamo fatto bene a non mettere sul tavolo perché adesso pensate l'olio cioè diventa liquidissimo secondo me comunque tu gira gira bene bene mentre gli glitter allora è rosa ci mette glitter argento dai no Pippo te ne abbondo no 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 tu me l'ho messo me no no ma l'argento voglio non no vai tu me l'hai messo vai metti tu non tanti eh ok 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 se faccio l'olio vai Pippo tu misca l'olio vai no lo faccio lo faccio ok dai vai metti la mischia eh vai le metto io vai 100 kg mettimi 100 kg ok basta basta vabbè ok coltellino qua perfetto rosa di prima rosa adesso fantastico si vede ok mischiamo guardate che bello cosa c'è Pippo grigge in questo video aspetta fa vedere come è venuto buttissimo fanno vedere mettilo vicino è un chicco di maizio guardate devo al mio ragazzi no basta lo aggiungo lo aggiungo al mio al tuo devo un po' basta 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 c'è il suo brillantino che galleggiano nell'olio schifosa vado dalla soia vado dalla soia di youtube ok vedete si vedono qui che brilla bellissimo questo mi piace ok ragazzi magari questo se ne ho commenti votate lo trovo in cui vi è piaciuto di più indicando gli ingredienti che abbiamo aggiunto ok quello di più mostruoso più particolare ecco quindi direi proprio di concludere qua il video adesso andiamo a pulire tutta questa catastrofe comunque ragazzi vi raccomando se avete visto il video mettete un bel pollice in su per i vostri amici per i vostri commenti e sta, è sta, è sta, è sta, bomba no 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 ragazzi 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 bellissimi commenti come fate sempre mi piace tantissimo tanti like per questo video pazzo e quindi saluti da Tina e lupo di mio ciao 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 ciao